Buon Natale a tutti cari amici di Telemolise, buon Natale a tutti quanti voi che probabilmente è stato intorno alla tavola natalizia, buon Natale a Daniela Ziccardi al mio fianco, buon Natale a lei e a tutti i nostri telespettatori. Questa è la prima volta che, non è la prima volta, però è l'unica volta in cui nel corso di 365 giorni in cui va in onda il nostro TG, ebbene è l'unica volta in cui c'è questa conduzione doppia ed è un motivo particolare perché evidentemente trattandosi della giornata natalizia, proponiamo un TG Sport di carattere completamente diverso. Dunque, la redazione sportiva di Telemolise lavora veramente in maniera molto molto faticosa durante tutto il corso dell'anno, oltre ai TG Sport vanno in onda tre trasmissioni sportive alla settimana, la domenica a tutto campo e domenica sport il lunedì Molise a calci, oltre a questo c'è la produzione di una trasmissione impegnativa come Telemolise nel cuore, la cui quinta edizione è andata in onda la serata del 7 dicembre presso il Salone delle Feste del Coriolis, poi c'è stata anche la produzione di una trasmissione a parte durante Telemolise nel cuore, il backstage, una serie di interviste realizzate sempre da noi della redazione sportiva, che qualche giorno fa abbiamo anche presentato il calendario della TGS, testata giornalistica sportiva di Telemolise. Tutto questo naturalmente è frutto di duro lavoro da parte nostra, da parte mia, di Daniele in particolare, da parte di tutti i ragazzi che fanno davvero un lavoro certe volte oscuro ma prezioso, ma indubbiamente tutto questo non sarebbe possibile farlo se non ci fosse anche il conforto, il sostegno del nostro giovane e valente editore. Quindi insomma apriamo questa edizione natalizia con un'intervista realizzata proprio con Quintino Pallante, che ci mette sempre in condizione di fare il meglio e soprattutto di offrire di più a tutti i nostri telespettatori. Quintino Pallante, editore di Telemolise, anche da parte tua un augurio sincero, sentito, a tutti i nostri telespettatori in questo giorno, che è il giorno del 25 dicembre, ovvero la festa di Natale. Sì, un augurio a tutti i nostri telespettatori che quotidianamente ci seguono, sia per l'informazione, per lo sport e tutti i programmi che quotidianamente produciamo, grazie per questo affetto che ci dimostrate nel seguirci quotidianamente e auguro a tutti un buon Natale, un felice anno nuovo, buone feste a tutti quanti. Una piccola cosa, se posso, insomma è stato un dicembre impegnativo per la redazione sportiva, ma chiaramente anche per Telemolise, sia con Telemolise nel cuore, sia con il calendario che è stato presentato pochi giorni fa, due appuntamenti importanti per testimoniare ancora una volta la vicinanza della nostra emittente rispetto al territorio. Con Telemolise nel cuore, tanti ospiti nel segno del Molise, con il calendario per un omaggio gratuito a tutti coloro che ci seguono e ci vogliono bene. Sì, il 7 dicembre c'è stata questa bellissima trasmissione, Telemolise nel cuore, che oramai ogni anno stiamo riproponendo, sempre con delle bellissime novità, soprattutto dando preferenza agli artisti molisani e premiando l'eccellenza del Molise. Una bellissima trasmissione davvero, spero che sia diventata a questo punto una tradizione della nostra emittente. Lo sport è fermo, almeno in questo giorno di Natale. Allora, per l'appunto, come ha già detto anche il direttore, è l'unico Tg dedicato a noi della redazione sportiva. È l'occasione, però, anche per tracciare un bilancio di questo anno che sta per terminare, allora sentiamo proprio il bilancio del direttore Antonio Di Lallo. Siamo qui ancora a commentare un altro anno che è passato, tanti appuntamenti per la redazione sportiva, l'ultimo in ordine di tempo, Telemolise nel cuore, poi c'è stata la presentazione del calendario di Telemolise, oltre però ai 365 giorni di dirette tv. Sì, è un impegno a tempo pieno che dura tutto l'anno e con questa perla di Telemolise nel cuore che costa veramente tantissimo sacrificio e tantissima fatica. però, insomma, noi siamo forti, quindi evidentemente riusciamo a fare non soltanto quello che si fa di routine, ma tu hai detto Telemolise nel cuore, però, insomma, a fianco a Telemolise nel cuore ci sta il backstage, delle interviste dietro le quinte che poi andiamo a montare per speciali di viaggio in Molise. Insomma, quindi non è soltanto Telemolise nel cuore, quest'anno tra l'altro impreziosito dalla presenza di una grande artista come Silvia Mezzanotte, oltre che di un gruppo di artisti molisani davvero prestigiosi, ma, diciamo, riusciamo poi a fare in una trasmissione anche a ricavarne anche situazioni, voglio dire, collaterali che puoi fare soltanto se c'è una grande organizzazione e soprattutto se ci sono delle persone affidabili su cui poter contare. La redazione sportiva, però, è anche una grande scommessa, nel senso che si è scommesso sugli sport anche di categorie, diciamo così, minori, come abbiamo anche ricordato più volte dai fasti della Serie B. Oggi comunque ci ritroviamo a commentare anche per quanto riguarda il calcio, l'eccellenza, la promozione, la prima categoria per dar voce al Molise, è una scommessa a investire anche sulla redazione giovane di Tele Molise. Sì, sì, ma è chiaro che nel momento in cui il campo basso è sceso dalla Serie B e l'Isernia non ha fatto più la C2, che cosa devi fare? Chiudi? No, noi abbiamo deciso di dare spazio al calcio dilettantistico e devo dire che abbiamo ricevuto grandissime soddisfazioni da questa scelta perché alla fine è l'unica trasmissione su tutto il territorio nazionale che tratta il calcio dilettantistico a questi livelli, insomma sotto un profilo qualitativo. Redazione giovane, molto giovane, ragazzi animati da tanti buoni propositi, soprattutto con un senso dell'appartenenza veramente rilevante e sono questi gli ingredienti per cercare comunque di restare, perché il problema non è avere successo, il problema è mantenerlo dopo averlo raggiunto. Quindi lo si fa soltanto se c'è un'organizzazione capillare alle spalle e se puoi contare su scelte professionali di qualità. In questi anni la redazione sportiva ha dato voce ai molisani sotto il punto di vista sportivo, sotto il punto di vista anche sociale, imprenditoriale, testimonianza artistico, testimonianza e per l'appunto anche telemolise nel cuore. Non è una redazione solo sportiva? No, ma chi sapeva che Nicola Fazio, che abbiamo premiato quest'anno, è il direttore dell'Istituto Oncologico Europeo ed è di Toro. Chi sapeva negli anni scorsi che Giovanni Ramacciato, un famoso chirurgo direttore dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, ma chi sapeva che Don Raffaele, che è stato 30 e passa anni nel Chad, in missione, insomma sono tutte persone che dal Molise non hanno ricevuto, parliamoci chiaro, nulla sotto il profilo di un riconoscimento. Telemolise gliel'ha dato e quindi ha portato alla ribalta delle persone, voglio dire, delle quali si sapeva l'esistenza, ma non si sapeva che fossero di origini molisane. Come chiudere questa intervista speciale di Natale per i telespettatori? Niente, come chiuderla? Buon Natale a tutti, che sia un Natale di serenità, di benessere fisico, soprattutto, e soprattutto d'amore, insomma amore inteso nel senso veramente più vasto del termine. Spesso ci si accapiglia per motivi futili, quando poi ti trovi di fronte a problematiche assolutamente serie, capisci che insomma sarebbe bastato veramente un attimo di buon senso per bypassare qualsiasi tipo di problema. Quindi se stai bene, secondo me puoi fare tutto. Quindi il mio augurio è soprattutto un augurio di tanta, tanta, tantissima salute a tutti. Ho parlato prima evidentemente di tutte quelle persone che lavorano stabilmente nella nostra redazione sportiva, e sono veramente tanti, tra i collaboratori di carattere giornalistico e naturalmente i tecnici. Ce n'è una in particolare che, pur non essendo più a far parte tutti i giorni della nostra redazione sportiva, comunque ci segue sempre con grandissimo affetto e soprattutto sempre pronta quando la chiamiamo a scendere in campo. Erika Mastropietro è stata insieme a noi anche al Coriolis per presentare la quinta edizione di Telemolise nel cuore. Quindi ascoltiamo anche il suo parere su quella che è la sua presenza all'interno di Telemolise. Erika Mastropietro, storica collaboratrice di Telemolise, in questa giornata di Natale facciamo gli auguri ovviamente a tutto il nostro vasto pubblico, poi come piace dire a te io faccio parte sempre di questa grande famiglia anche se non sono al libro paga. che è una frase che sottolinei sempre. Che ormai utilizzo da quando appunto ho lasciato l'emittente solo perché appunto non sono più al libro paga. Per quello che mi riguarda insomma l'anno prossimo io taglio il traguardo dei 25 anni di collaborazione con Telemolise, 16 dei quali li ho trascorsi proprio a svolgere la mia professione e gli altri a continuare a collaborare con questa grande realtà, la realtà di Telemolise che è una realtà voglio dire indiscutibile dal punto di vista del servizio dell'emittenza radio televisiva regionale e che però rappresenta anche un pezzo importante del mio cuore. Un piccolo passo indietro di qualche settimana fino a Telemolise nel cuore il Gran Galà edizione numero 5 quest'anno con la presenza in signe di Silvia Mezzanotte. Il Gran Galà Telemolise nel cuore è una cosa che lo dico spesso, mi piace anche ripeterlo, siamo in grado di fare solo noi. Siamo partiti 5 anni fa, in effetti la prima edizione non fu propriamente il Gran Galà ma fu il festeggiamento della puntata numero 1000 di Domenica Sport. Da lì al direttore, ad Antonio Di Lallo, venne l'idea di così metter su allestire una Kermess di rilievo. E' nato così l'appuntamento con Telemolise nel cuore, quest'anno abbiamo tagliato il quinto traguardo con la chicca di Silvia Mezzanotte che ha davvero impreziosito quello che comunque è stato uno spettacolo di rilievo ed è stato un crescendo perché ogni edizione è stata di successo sempre più. Il 2019 è ormai dietro l'angolo, l'auspicio tuo e di Telemolise. A Natale mi piace augurare tanta serenità a tutti, ai nostri telespettatori in primis perché sono la nostra forza e questo è veramente fuori discussione. E per il nuovo anno i migliori auspici, insomma sembra sempre banale, ma che per questa nostra piccola regione ci possa essere una ripresa in termini di economia che gira perché le piccole realtà come quella nostra hanno evidentemente subito molto la crisi che ha attanagliato il Paese e quindi che sia per tutti un anno migliore da questo punto di vista ma soprattutto dal punto di vista della solidità dei rapporti affettivi. Mi piace dirlo perché all'emittente a tutt'oggi mi lega proprio questo, mi lega l'orgoglio dell'appartenenza e questo è frutto di un rapporto di cuore, di affetto con alcune persone in particolare ma con tutta la realtà di Telemolise in generale. I weekend si caratterizzano da troupe che scendono sul campo fatta di giornalisti che avete modo comunque di conoscere più da vicino ma c'è anche tutto uno staff tecnico. Allora abbiamo riunito le tre redazioni di Campobasso, Esernia e Termoli e tutti insieme vi abbiamo fatto gli auguri. Vediamo. Allora eccoci qui ancora una volta come da tradizione tutti gli anni ci ritroviamo per la consueta cena di Natale e poi chiaramente di fine anno con tutta la redazione sportiva che si ritrova qui al ristorante Panorama a Ferrazzano per un momento gioviale, per un momento dove abbiamo voglia di stare insieme, di pensare a farci gli auguri e magari lasciare per un attimo le vicende lavorative. Proprio in questa puntata speciale di Natale a voi che siete il nostro pubblico vogliamo dedicare il nostro pensiero per un augurio sincero di Buon Natale e chiaramente anche di un felice anno nuovo e come di consueto lo facciamo tutti gli anni però è una tradizione che è andata bene nel corso delle passate stagioni e quindi la riproponiamo come giusto che sia andiamo un pochino a scoprire, a farvi fare gli auguri da parte dei nostri collaboratori, dei tecnici, dei giornalisti di chi sta con noi, vive il weekend, il sabato, la domenica ma anche i giorni della settimana differenziando appunto per trasmissioni e per redazioni. Allora possiamo iniziare dalla redazione di Isernia che parte quest'oggi con, è rappresentata da Rosanna Esposito. Grazie Luigi e noi tutti i giorni entriamo nelle vostre case e vi facciamo compagnia ormai avete imparato tutti i nostri volti e non potevamo non farlo in questo giorno un po' speciale per tutti lo facciamo molto volentieri e anche un modo per dimostrarvi il nostro affetto visto che voi ripetutamente ce lo dimostrate e per questo io in questo giorno che vi auguro passiate in serenità con i vostri cari, con le vostre famiglie, vi faccio i miei più sentiti auguri di un sereno Natale. E dunque grazie Rosanna e anche un augurio sempre a redazione di Isernia per Paola Modei. Grazie Luigi, chiaramente è sempre un onore e un piacere allietare i vostri weekend con i nostri servizi un augurio sincero, di vero cuore a tutti i nostri degli spettatori, agli sportivi molisani dei sinceri auguri anche da parte di Danilo Scarinci, il nostro tecnico che non se la sente tanto di esprimere insomma il suo augurio, noi ovviamente saremo sempre operativi anche durante le feste dunque vi auguriamo insomma un sereno Natale ed un felice anno nuovo. Grazie, grazie per Paolo, possiamo passare alla redazione di Termoli, c'è il capofila che è Pino Somma storia di Telemolisi e Sport. Pino c'è questa camicia rossa, manca un po' di giallo però il giallo è sempre presente. Grazie Luigi, anche dalla redazione di Termoli, oggi rappresentata da me e da Medeo, un sereno Natale e soprattutto un 2019 che quantomeno sia diverso per il Basso Molise, sia diverso perché il 2018 ha lasciato un segno non proprio brillante, speriamo che il 2019 sarà un po' diverso. Sereno Natale e prospero 2019. Grazie, grazie a Pino Somma, a Medeo non vuole essere diciamo chiamato in causa però gli auguri sono naturalmente anche da parte sua e di Alessandro Nardella che questa sera non è qui con noi che è un altro collaboratore nostro storico, nonché nostro amico. Passiamo ad una trasmissione che è la trasmissione di Molise a calci, trasmissione che seguite il Monday night, il lunedì no per dirla all'inglese insomma con il riferimento al campionato di Premier League, quest'anno Gianni Bruno che ha doppia partner perché si alternano, Eleonora ed Erika, Gianni. Sì, grazie Luigi, hai detto bene, il Monday night l'abbiamo mutuato dal gergo calcistico questo termine, andiamo in onda praticamente tutti lunedì con il nostro salotto di Molise a calci, un lunedì a testa per Eleonora ed Erika che sono qui al mio fianco, qualcuno ha anche detto Luigi beato fra le donne ma è forse un'espressione esagerata perché sono delle ragazze, sì beato fra le donne ma bisogna sottolineare la bravura di due ragazze che sono applicatissime e sono davvero molto molto brave tra l'altro alla loro prima esperienza con la nostra redazione sportiva quindi colgo l'occasione per augurare buon Natale a tutti i tifosi del Campobasso ma più in generale a tutti gli sportivi rosso-blu un augurio di buon Natale in questo giorno di festività e di buone feste in generale e ovviamente sentiremo anche prima Eleonora e poi Erika quindi a voi. Gianni io ti ringrazio per i complimenti che mi hai fatto e ci hai fatto e per me è un piacere essere entrata a far parte di questa grande famiglia la chiamo così e ne approfitto per fare a tutti voi gli auguri per un buon Natale e un felice anno nuovo. Minisco anch'io ai ringraziamenti e auguro a tutti quanti un buon anno nuovo sperando che continuate a seguirci per tutto il 2019. Ecco abbastanza diretta Erika devo dire tra l'altro devo ringraziare loro perché nelle domeniche di fuga dando una mano a Benedetta anche a tutto campo quindi questo lo volevo dire pubblicamente. Allora un augurio anche adesso ci spostiamo sui giornalisti che naturalmente sono presenti durante la settimana durante il weekend soprattutto quella parte che prende ancora un po' di freddo perché Gianni segue il Campobasso trova stati sistemati a Edisernia pure a Agnone però c'è anche chi prende freddo e acqua. Iniziamo da Daniele Genovese. Sì grazie Luigi io come tutti i sabbati da parecchi anni sono impegnato sui campi come sempre cerchiamo tutti noi a Redasoni di darvi il miglior servizio possibile voi siete la nostra forza perché voi ci date tanta energia per migliorare e starvi sempre più vicino. Io vi auguro a tutti i sportivi molisani ovviamente un bellissimo Natale, un felice anno nuovo e che ci seguite sempre più numerosi. Grazie, grazie Daniele e passo il microfono a Dolore Scalandrella. Grazie Luigi innanzitutto un ringraziamento a tutti voi telespettatori. Luigi è passato un altro anno sportivo tra voti contestati, corner, gol annullati, moviole, calci di punizione. Adesso siamo scesi tutti in campo e mi sembra che sia tutto regolare. Buone feste a tutti. Brava, brava e complimenti anche per il riferimento calcistico. Quindi brava Dolores dunque grazie a te e ora a Antonio di Monaco. Sì grazie Luigi. Questo bellissimo giorno di luce, di pace e di serenità colgo l'occasione di augurare buon Natale a tutti e soprattutto che sia un buon Natale di apertura, di veicolo, di valori veri come lo sport sa dare e come noi riusciamo a raccontarli entrando in embattia con voi pubblico che ci sostenete e ci seguite. Grazie ancora, buon Natale, buon anno e che sia un anno prospero e sereno per tutti. Bravo Antonio e passo il microfono con grande piacere al collega folle ovvero Francesco Brunale che insomma da due anni segue il basket. Quest'anno c'è da divertirsi Francesco. Diciamo che ci divertiamo, diciamo che siamo contenti e siamo felici di fare questa nuova esperienza. Chiaramente io voglio fare gli auguri a tutti i telespettatori di Remorise. Poi a questa fetta di appassionati di basket che siamo sempre di più e il movimento sta crescendo, le ragazze ci stanno dando tante soddisfazioni ma non solo alla città tutta la regione prima in classifica. Io spero che l'anno prossimo sia la volta buona e se permetti vorrei commentare una promozione in Serie A perché diciamo le ho viste tutte e mi piacerebbe aiutere così ecco. E quindi insomma speriamo che questo augurio possa insomma concretizzarsi poi nei mesi credo primaverili perché lì ci saranno i playoff per la Magnolia. Dunque un grazie Francesco passo il microfono a Stefano Saliola che è un nostro prezioso collaboratore ma anche amico insomma ci vediamo in settimana non lo nascondo a fare colazione la mattina per iniziare le nostre giornate al meglio. Sì un caffè insieme per caricarci anche in vista del weekend è passato un altro anno sportivo, un anno intenso, il tempo è stato clemente, non c'è stata ancora neve, pioggia speriamo si continui così. Sono fiero e orgoglioso di far parte di questa grande squadra siamo una grande squadra. Auguri a tutti gli sportivi di Teremonise e a tutti gli sportivi di Monisa. Infatti mi associo all'appello insomma speriamo che non venga la neve ma a gennaio diciamo il rischio il rischio c'è. Allora passiamo alle donne della Domenica Benedetta Fazio e Sara Calaf rispettivamente a tutto campo e Domenica Sport. Devo dire quest'anno hai svolto egregiamente anche il ruolo di conduttrice quindi ti faccio anche a te i complimenti perché non solo Area Social ma è stata molto brava anche alla conduzione del programma. Un augurio anche da parte tua. Ti ringrazio innanzitutto Luigi. Devo dire quest'anno mi ha abbandonato per qualche puntata però il calcio è la sua grande passione quindi lo perdoniamo. Per il secondo anno consecutivo sono alto fianco alla conduzione di A Tutto Campo e devo dire volevo ringraziare tutte le persone che ogni domenica ci iscrivono e ci contattano e ci dimostrano il loro affetto perché grazie a Telemolise ci seguono davvero tante persone da ogni parte del mondo. Riceviamo davvero tanti messaggi grazie anche alla diretta Facebook e sintonizzati appunto tutti su Telemolise quindi volevo dire anche questa cosa. Faccio parte ormai da tanti anni di questa grande famiglia quindi ho questo piacere e questo onore di essere ogni domenica in mezzo a tutte queste bellissime persone e non mi resta che farvi un grosso augurio per un felice Natale e un sereno 2019 sempre sintonizzati su Telemolise. Bravissima, bravissima anche perché il pubblico che interagisce con noi la domenica non solo da tutto campo ma anche a Domenica Sport ci fa sentire sempre la vicinanza ovvero voi che ci state seguendo anche in questo giorno. Dunque Sara. Sì da settembre in vostra compagnia su Telemolise a Domenica Sport con il direttore Antonio Di Lallo come ogni domenica con immenso piacere trascorriamo insieme la domenica e spero che stiate trascorrendo queste festività nel migliore dei modi possibili insieme ai vostri cari e alle persone che maggiormente amate. L'augurio che posso farvi è quello che questo Natale sia ricco di gioia, di prosperità e che il 2019 sia migliore dell'anno che sta per terminare. Detto questo che dirvi ci rivediamo l'anno prossimo sempre a Domenica Sport in compagnia mia e del direttore Antonio Di Lallo. Grazie. Grazie a te Sara e ora dai giornalisti insomma dai conduttori passiamo al gruppo di tecnici che vedete inquadrati tra l'altro parlerà Antonio a nome di tutti però insomma almeno i nomi li possiamo dire e poi un augurio da parte vostra. Sì certo Gigi noi non siamo abituati a stare davanti alle telecamere ci nascondiamo un po' tutti a partire da sinistra abbiamo Alberto, Fabio, Marco, Marco, Loreto e infine il piccolino Attilio. E vabbè noi da parte di tutti quanti i tecnici della redazione di Campobasso vogliamo fare un grandissimo augurio di buone feste e buon Natale a tutti quanti ci vediamo l'anno prossimo sui campi. Ecco però prima di essere denunciati all'ufficio del lavoro Attilio è il figlio di Alberto perché si trovava tu l'hai presentato come Attilio va bene però è qui insomma per per papà no possiamo confermarlo? Sì. Insomma ancora non lo mettiamo non lo mettiamo a a lavorare quindi un augurio da parte di tutti adesso la la sorpresa potete vedere alle nostre spalle perché come da qualche anno arriva Babbo Natale qui a supportare i nostri auguri natalizi Babbo possiamo fare una battuta al volo prima che il campanello ci sordisca dunque Babbo Natale un augurio matesino possiamo dire va? Un augurio a tutta la redazione sportiva delle Molise che ha dimostrato ancora una volta di essere una grande famiglia e soprattutto a tutti gli sportivi molisani che seguono le trasmissioni delle Molise e soprattutto sostengono lo sport molisano e quindi va bene così adesso doni doni per tutti chiedo naturalmente a tutti di venire qui dietro così facciamo un augurio finale voglio solamente aggiungere chiaramente manca qualcuno stasera c'è Francesco dentro la telecamera c'è Daniele altri tecnici insomma non non li nomino tutti altrimenti li dimentico quindi da parte nostra tutti un augurio sincero e quindi credo che all'unisono possiamo dire tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo quindi auguri a tutti e abbiamo visto tutti quanti insieme questi ragazzi a questo proposito devo dire anche se è il giorno di Natale devo dire che è il meglio assolutamente che c'è sul mercato giornalistico e tecnico molisano in questo momento insomma noi siamo sempre molto attenti a scegliere quelle persone che possono davvero dare un contributo fattivo alle fortune della nostra redazione sportiva purtroppo devo dire che c'è stato qualcuno che evidentemente non informato oppure informato male io ho letto qualche commento su facebook ebbene qualcuno che ha parlato di ragazzi troppo giovani di persone vere che c'erano anni fa ebbene io risponderò soltanto che quando sono arrivato il primo maggio 1987 a Telemolise Telemolise era coperta di debiti ogni tre giorno ricevevamo la visita dell'ufficiale giudiziario che procedeva a qualche sequestro e quindi Telemolise di lì a poco avrebbe probabilmente chiuso i battenti per portare i libri in tribunale quindi evidentemente a questa persona che ama mettersi in mostra anche sui social per dare giudizi che sono assolutamente inappropriati insomma consiglieremmo veramente di tacere e di riflettere su quello che è il presente suo e anche probabilmente di qualche familiare quindi in sostanza meglio tacere piuttosto che veramente sparare una serie di corbellerie che non hanno nessun riferimento fondato nella realtà questo andava detto perché altrimenti insomma può sembrare che questi ragazzi che danno il massimo probabilmente saranno giovani ma sono sicuramente bravi e sono stati soprattutto cooptati perché hanno delle grandi professionalità fare riferimenti inadeguati è assolutamente inopportuno soprattutto da parte di chi farebbe molto meglio a tacere perché non conosce assolutamente i fatti per il momento ci fermiamo qui perché insomma se dovessimo essere poi ulteriormente provocati probabilmente potremmo andare anche oltre ma per il momento proprio perché è il giorno di Natale preferiamo fermarci qui non poteva mancare il partner di sempre della redazione sportiva che è il ristorante Panorama che ha organizzato anche il Veglione di Capodanno che organizza una serie di feste davvero interessanti con il Panorama, con Cine Panorama che è un ristorante che lavora indefessamente tutti i giorni e quindi il nostro partner di sempre il ristorante Panorama noi abbiamo avvicinato Gaetano Iorio che è uno dei titolari Gaetano Iorio per me personalmente sono 15 anni di redazione sportiva sono 15 anni di Cine al Panorama porta fortuna troppo gentili, infatti ogni anno ci troviamo per questa decorrenza natalizia siamo sempre contenti e felici di ospitarvi come redazione sportiva anzi, vi diamo un buon augurio a tutti quanti per un buon Natale, un buon 2019 a tutti tutta la redazione sportiva un grazie all'editore, al direttore, a tutta la famiglia e a tutti quanti voi giustamente Daniela tu sei sempre gentilissimo ogni volta mi prendi e mi porti sempre qui a fare queste interviste sono sempre contento, lo sai questi sono giorni di festa per tanti sono giorni di lavoro per voi fortunatamente sì, siamo già pronti per organizzare il cenone di fine anno siamo già a buon punto però ne aspettiamo sempre numerosi e speriamo che ci comportiamo sempre bene con tutti come sempre organizzerete una serata che sarà gastronomico musicale insomma per aspettare bene insieme questo 2019 sì, festeggeremo il 2019 con tutti quanti i nostri appassionati del ristorante Panorama speriamo bene anche quest'anno ci vediamo come sempre l'anno prossimo insieme a tutta la redazione sportiva di Tele Molise Va bene Daniela, questo è tutto questa è la nostra redazione questo è il nostro telegiornale di Natale io ne volevo approfittare prima naturalmente di lasciare a te i saluti natalizi volevo approfittarne per rivolgere il più grande ringraziamento veramente no, possiamo restare sulla larga perché volevo rivolgere il più grande ringraziamento proprio a Daniela Ziccardi che lavora davvero si può dire 24 ore al giorno per la redazione sportiva di Tele Molise poi ne volevo approfittare per ringraziare tutte le nostre forze tecniche e giornalistiche perché insomma che possano trascorrere un sereno Natale un Natale fatto soprattutto di benessere fisico che è quello che auguro sempre perché se non c'è veramente il benessere fisico tutto quanto viene meno tutto il resto viene meno e un pensiero voglio rivolgerlo a tutte quelle persone che sono state tante che avevano sentito e visto questo telegiornale sportivo di Natale l'anno scorso e che per un motivo o per un altro quest'anno non ci sono più un saluto particolare a loro che ci seguiranno sicuramente dal cielo e un augurio di benessere fisico e quant'altro di serenità di gioia, d'amore a tutti quanti voi grazie prima di tutto per la fiducia data in questi 15 anni perché sono 15 anni quindi per rilacciarmi anche solo un istante al discorso fatto precedentemente il direttore ha investito in me che avevo 17 anni oggi ne ho 32 sono ancora qui al suo fianco quindi la ringrazio perché Tene Molise si è continuità con le persone ma anche investimento sulle persone giovani come tutta la redazione sportiva ma devi essere intelligente per capirle queste cose perché insomma i nostri telespettatori la gran parte la vastissima parte sono persone assolutamente intelligenti poi c'è anche qualche qualche mela marcia qualche stupido che evidentemente confonde poi le carte e perde completamente la bussola di quello che sta dicendo assolutamente sì però a questo punto però non ci resta solo che augurare anche in questo giorno di festa a tutti i nostri telespettatori un augurio di buone feste di un sereno natale che comunque sta andando in archivio e ricordare che però domani la programmazione della testata giornalistica sportiva riprende in maniera assolutamente regolare stiamo lavorando come ha già detto anche il direttore per un anno di sport la trasmissione che il primo di gennaio andrà a ripercorrere tutti gli avvenimenti sportivi più importanti di questo 2018 quindi arrivederci a domani e ancora una volta buone feste da tutta la redazione sportiva di Telemolise buone feste buone feste di Telemolise buone feste buone feste buone feste